La stagione scorsa è stata determinante per lui, ma dopo un anno del genere, si sa, ci si ritrova addosso gli occhi di tanti, ma la mossa di Guarascio di riscattarlo ha certamente complicato i piani di molti. Fatto sta che Gennaro Tutino è ancora un calciatore del Cosenza, la sua cessione sta un po' bloccando i piani di diverse squadre, ovvero di chi lo vuole, ma anche dello stesso Cosenza. In Casa Rosso Blu sono stati chiari sul prezzo del numero 9, perché l'idea di perderlo è ormai radicata da tempo nella testa di tutti i dirigenti e tifosi, ma bisognerà monetizzare. Sotto questo punto di vista sono state diverse le squadre che hanno soldato il terreno, ma nessuna, almeno per il momento, ha affondato il colpo. Nella Sampdoria, nella Salernitana, nella Cremonese, il Venezia o la New Entry Sassuolo, che nel frattempo si è assicurato Caligara soffiandolo proprio a Cosenza. Un comportamento quello del centrocampista che non è piaciuto alla dirigenza Rosso Blu, che ora però è già impegnata nella ricerca di altri profili per il centrocampo e uno di questi potrebbe essere Maestro. L'impressione però è che la gestione di Tutino possa essere, in un modo o in un altro, quel tassello che ne sblocca tanti altri. Perché anche il Cosenza segue diversi giocatori ed uno potrebbe contenderselo anche con il Catanzaro. Caserta, infatti, rivorrebbe Mazzocchi, giocatore che ha allenato proprio nella scorsa stagione. Bisognerà parlare con l'Atalanta e vincere la concorrenza proprio del Cosenza. Vedremo chi la spunterà. In attacco, in casa Catanzaro, ci sarà sicuramente il simbolo giallorosso Pietro Iemmello, che intanto sta trattando il rinnovo ed adeguamento di contratto. Potrebbero restare, al contrario di quello che si pensava, anche Biasce e Scognamiglio, ma intanto a Catanzaro è arrivato la rete di Fudignati, ovvero Mirco Pigliacelli. Sicuramente ho girato un po', ho girato in qualche piazza, diciamo, calda, però sinceramente quando ho avuto questa possibilità di far parte del Catanzaro, sicuramente c'è stato poco da pensare. Ho sentito subito il calore dalla piazza, anche tramite qualche social. Ho sentito la voglia da parte del direttore della proprietà di avermi qui e quindi sono estremamente felice. Poi ho parlato già con Pietro, mi ha spiegato qualcosa, mi ha raccontato qualcosa, quindi non vedo l'ora di iniziare.